I carabinieri del reparto territoriale di Termini Merese, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, del gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro, dell'ASP di Palermo, Dipartimento Prevenzione Veterinaria e dell'Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato controlli straordinari sul territorio di Termini Merese per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza alimentare. Durante gli accertamenti i carabinieri avrebbero riscontrato gravi violazioni penali e amministrative commesse sia dai venditori ambulanti di prodotti ittici, sia dai titolari delle ditte e dai responsabili della sicurezza in un cantiere edile oggetto dell'attività ispettiva, determinando altresì sanzioni per oltre 90.000 euro. All'esito dell'attività ispettiva svolta nel cantiere edile è stato adottato un provvedimento di sospensione immediata dei lavori a causa delle gravi violazioni rilevate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Invece nel corso dei controlli presso i venditori ambulanti di prodotti ittici è stata riscontrata l'assenza della prevista documentazione amministrativa e sanitaria circa la provenienza, la tracciabilità e la vendita del pescato, opportunamente sequestrato e distrutto nell'immediatezza a tutela della salute dei cittadini. Inoltre in entrambe le attività ispettive è stata constatata anche la presenza di lavoratori non in regola sforniti delle garanzie previste dalla legge e per cui i rispettivi datori di lavoro sono stati sanzionati.